Il tiro all'errore, il rimbalzo di Isli, riparte Sassari, Travis Diner per Rigneski e qui come al solito un'altra magia di Travis Diner. Questa è una magia perché poi lui ha visto il compagno libero e per smarcarlo ancora di più ha guardato sul lato opposto, quindi i giocatori a Rigneski hanno guardato gli occhi di Diner che guardavano nell'angolo sinistro, si sono rivolti verso quell'angolo e lui ha passato la palla invece a destra. Ha fatto sembrare semplice una cosa difficilissima. No, assolutamente sì, da gran playmaker. Ovvero giocatore di classe superiore, 55, la bolsa del tagliercio, Travis Diner è grandissimo passaggio di questo che è un campione, diciamo. Anche qua un fondamentale che ha deciso questa giocata è la finta di passaggio. Lui ha fintato di servire il compagno fuori i tre punti, ha sbilanciato la difesa e poi è riuscito a servire invece il compagno sotto canestro. L'ultimo minuto di gioco della partita bellissima.